Più di 4.000 alunni delle primarie di Arezzo, Prato e Siena partecipano a Roar Risparmia Ricicla Ruggisci, il progetto di Estra Estraligut Teatro dedicato al risparmio energetico e alla raccolta differenziata. Estra fornirà energia elettrica a circa 60 imprese aretine e 30 senesi, aderenti al consorzio Energia Toscana Sud, grazie all'intesa raggiunta tra Estra Elettricità e il consorzio di Confindustria Toscana Sud. Nasce il project manager del bilancio di sostenibilità. Estra promuove la formazione della nuova professione, necessaria dopo la direttiva europea, che chiede alle aziende di fornire notizie anche sul loro ruolo sociale e ambientale. Estra entra in scena anche nella stagione 2017-2018, con il Teatro Poliziano di Montepulciano, che ha in cartellone tanti titoli classici con acclamate personalità della scena nazionale.